Ciao, io sono Simona Vignali e tu sei sul mio canale di salute naturale. Da sempre amo la vita sana e ho fatto della mia passione la mia missione. La natura è il nostro miglior alleato per ritrovare energia, salute, benessere, bellezza e ogni domenica pubblico un nuovo video con tanti consigli e ricette utili a tutti da mettere subito in pratica. Mi piace essere chiara e arrivare al punto per darti la mia esperienza in modo facile, veloce e efficace. Ti racconterò come curare la bellezza, mangiare bene, avere energia, sentirti sano e stare in forma in modo naturale con il giusto equilibrio. Vivere bene significa anche avere una mente che sa pensare concentrata e stare calma quando serve, sapere come trovare la tua felicità, avere obiettivi chiari, forza interiore con una visione sempre positiva della vita. Vuoi conoscere i miei trucchi e segreti sperimentati di persona in oltre 25 anni di esperienza? È semplice! Iscriviti al canale, mettiti comodo e guarda!